Lavori come illustratore tanto anche nel mondo del fashion Questa è esattamente la roba che io Sconsiglio di fare a chi vuoi. Io ovviamente non ho mai fatto in effetti Si chi si fa 9 per cento della roba che vedo in giro perché è proprio merda e può sembrare arrogante per quel motivo No perché a loro diciamo che cazzo ti conosce che cazzo vuoi. Non mi ricordo c'è un intelligenza artificiale che genera delle facce Imbarcato in un'avventura in canada così. Cos'è la cosa che ti fa Inbestialire nel tuo lavoro. Ora se penso al cliente satan ahimè lì ti tolgo tutta la poesia Fin di merda cinque volte su sei Inizia e sai come finisce. Cazzo mi stai chiedendo cioè non devi fare nessun corso vecchio Si è bene così. Vai. Già una volta il lavoro dell'illustratore in questo paese non era manco considerata una professione vera Usa un'intelligenza artificiale al lavoro. Cioè magari l'intelligenza artificiale riesce a riprodurre uno stile Tu hai avuto un'idea chiara che volevi creare una carriera da illustratore? Si anche quando vengono da noi a chiederci di fare un powerpoint Ti giuro è successo eh Perché mi hai chiamato? Chiamalo No perché sei ignorante. Ignorante nel senso che ignori Ciao io sono El Gazi e questo è il podcast di El Gazi Vi ricordo che tutte le settimane esce il nostro podcast su Spotify e su tutte le piattaforme di podcast Apple Podcast quello che vuoi E troverai tutte le nostre puntate che abbiamo fatto fino ad adesso Ogni settimana alle 19 viene droppato su YouTube il nostro podcast e su tutte le piattaforme di podcast Potete ascoltare e vedere le nostre puntate su tutte queste piattaforme Qui con me oggi c'è Johnny Cobalto Buonasera e grazie per l'invito Benvenuto al nostro podcast Grazie Gabri Sono contento di essere qui Sono accaldato, rilassato e non vedo l'ora di imbarazzarti con le mie risposte Sì Sono già imbarazzato Tanto qua di imbarazzi ce ne sono stati a Gugu Soprattutto da parte mia Ah ok bene Non volevo chiedere, alzare robe Un po' spiacevoli da ricordare No io ho una malattia, ho una malattia Io amo le gaff Tu ami le gaff? Amo le gaff Io ho un po' di coprolalia come ti anticipavo Quindi sarà una bella serata di bestemmi e figuraci Tagliamo subito Sicuramente la tua camera Se vuoi salutare e dire qualsiasi cosa Ho saluto mia mamma e mio papà come sempre E mia sorella e mio cane Come si chiamava la malattia? Copro? Credo sia Coprolalia Ma c'è il 90% di possibilità che stia dicendo una cazzata Ok Oppure sindrome di Tourette Oppure esatto La sorella buona della Tourette Sì Perché dirò probabilmente cagate Quindi se mi portavo Metto le mani avanti Ecco siamo due che abbiamo quasi la stessa Senti ma Chi è Johnny Cobalto e cosa fa? Ah giusto Allora Johnny Cobalto Nasce da un parto travagliato Una quindicina d'anni fa In seguito a una serata di brainstorming Particolarmente intensa Che doveva dare i Natali Al titolo di un cortometraggio Non aveva un genere Sto cercando il genere del cortometraggio Ma non è che ce l'ha messo uno Proprio chiarissimo Che appunto stavo girando Una quindicina d'anni fa Con degli amici Era uno zombie movie Ambientato Fai conto In un Universo Anni 70 Quindi c'erano questi colori La grana I vestiti Tutto richiamava un po' Quell'epoca lì E in più il protagonista Era un attore porno Italo-americano Interpretato dal mio carissimo amico Filippino Italo-filippino Ok Quindi c'aveva un po' Quel look esotico Ci stava bene il baffo Il baffo Aveva un caschetto All'anino d'angelo Terrificante Lui era muscolosissimo Quindi Perché fai conto proprio Il film d'azione Con gli stilemi Degli anni 70 Quindi aveva tutti i classici Proprio Dal pantal Appunto Dallo stile Da quello che era la moda Quello che erano Il modo stesso di recitare Di Che poi vabbè Non erano attori professionisti Però anche la messa in scena Volevo che fosse proprio Una roba un po' Raffazzonata Un po' Annacquata Un po' Sì Che vuole essere Un film d'azione serio Ma è una puttanata No? Non volevo dire Bollywood Infatti non l'ho detto L'ho pensato E l'ho detto adesso L'hai pensato e l'hai detto Gli amici indiani mi odieranno Però capisci il senso No? La scivolata a cavallo La bici che esplode Sì, sì, sì Ma sono fighi Quindi stavano girando No, io li adoro Per quello che Infatti volevo omaggiare Un po' Direttamente Bollywood E quel filone Un po' Grindhouse Che aveva anche ripescato Tarantino In Rodriguez Anni fa Quindi niente Con la scusa del È un film vecchio Possiamo farlo un po' Alla cazzo di cane Pellicola La fotografia non c'era Non c'erano luci Era proprio fatto Alla buona Niente Io volevo che il nome Del protagonista Fosse veramente Una roba super Accattivante Sexy Anni settanta C'è una roba È italo-americana Volevo che proprio Col nome ci fosse dentro L'ignoranza Il forno Un po' d'Italia Un po' d'America Un po' di 70's No? E quindi quando è uscito fuori Questo Johnny Cobalto Non ricordo neanche io Più a chi uscì fuori il nome In realtà Probabilmente a tutti insieme Una certa Ci siamo tenuti per mano Abbiamo detto Johnny Cobalto Johnny Cobalto Ragazzi Avete invocato Esatto Abbiamo invocato Un nome perfetto E ho detto Cioè dico Il cazzo che io lo mollo A protagonista Lo voglio tenere per me Per firmare il film No? Quindi diretto Da Johnny Cobalto Diretto È un nome cazzuto È un nome straordinario È un nome cazzuto Nel senso Di anni settanta Non ho nulla Del porno Non ho assolutamente nulla Non ho neanche il baffo Ok Fermiamoci con le descrizioni Ho solamente un cazzo enorme Ah ok Però no Il nome era talmente bello Che ho detto No no Non si può far scappare via E poi da lì Sul set Sul set vuol dire Al parchetto Hanno iniziato tutti A chiamarmi Johnny 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 Su Facebook Ai tempi avevo ancora Facebook Era Johnny Cobalto E mi è rimasto quello E quindi c'è gente Fondamentalmente C'è stato un periodo Poi Quando mi sono trasferito In Canada Che ero già Johnny Che pensavano Che mi chiamassi Johnny Cobalto Crisi di identità Io esatto Quando mi chiamavano Paolo Non mi giravo più Quindi era un problema Solo mia madre Mi chiamava Paolo Paolo e tu Paolo Che cazzo Mamma Che cazzo stai dire Non ti ricordi neanche come mi chiamo Tu non mi ami Tu non mi ami Io sono Johnny Cobalto Io sono Johnny Cobalto Quindi Quindi sì Johnny Cobalto È nato così Tu mi hai chiesto chi è È nato così E ce l'avevo attaccato Quando facevo video Quindi Sì Io una quindicina d'anni fa Quando avevo Era già una ventina Quando avevo sui 15 anni Intorno ai 15 anni Ho iniziato a fare Questi cortometraggi Per diletto Sai Non avevo tanti amici Preferivo fare video Per cazzi mia Ok Esatto Piuttosto che andare A rubare i motorini Sono nato e cresciuto a Pioltello Erano due le opzioni Erano due le opzioni O rubavi i motorini O diventavi un regista incredibile Io non ho peccata neanche una Cioè Non so rubare un motorino Non so fare un bel film Però Mi sono divertito di più Secondo me ho rischiato anche meno A fare video Rispetto a rubare i motorini E E niente Poi la passione Per il Per il cinema In realtà Non è mai scemate È ancora Viva In me L'unica cosa È che essendo io una persona Particolarmente Si può dire Pignola E precisa È molto Che ha a cuore Quello che fa Soprattutto se il progetto è personale Cioè Già ho a cuore I lavori per i clienti Figurati i miei Sei una persona pignola e precisa Sul lavoro Ok In tutto il resto No Totalmente l'opposto Però Nel senso Quando c'ho un'idea E sono su un progetto E sto lavorando a qualcosa Riesco ad avere delle pretese Nel senso Voglio che venga Come ce l'ho in mente E siccome Il cinema È comunque qualcosa Che non nasce da solo Perché un film Non lo fa una persona Ma lo fa un coro Quindi c'hai Direttore della fotografia Certo C'hai C'è tutta una squadra C'è un scenografo C'è un giocatore All'epoca Non avevo quattrini Ero un ragazzino E dover fare affidamento Sui tuoi amici Che ti stanno facendo un favore E ci stiamo divertendo insieme Sai Era sempre un far venire fuori qualcosa Che Quindi era sempre la ricerca Del Del compromesso Non era mai quello che volevo Finché poi Vabbè Parallelamente Io disegnavo anche Ai tempi avevo un Tumblr Non so per quale oscuro motivo Allineamento astrale Dei miei lavori finirono Sulla home di Tumblr E quindi Mi è tipo impazzito il Tumblr Avevo Non so quanta gente Che mi seguiva E da lì ho iniziato a lavorare Come illustratore E il video l'ho tenuto Parallelo Ma sì Me li guardo Scrivo Scrivo soggetti Che tengo nel cassetto Che custodisco gelosamente Che non faccio leggere a nessuno Ma Ma sì È diventata un po' l'amante L'amante L'illustrazione è la moglie Il cinema è l'amante Il cinema è l'amante Che è rimasta lì nascosta Ma Ma tu ti definisci come Una persona più visiva O più Si può dire Descrittiva Cioè Che Trasmetti Comunichi più A immagini O a parole A immagini Ok Sì È una bellissima domanda Perché in realtà Io amo raccontare No Per cui Infatti Scrivo tanto In realtà Però Trovo che La sintesi Di un'immagine E la potenza Anche Di da scalica Descrittiva Di un'immagine Corretta Di un'immagine Ponderata Cioè Quando voglio dire qualcosa Con un'immagine Con un'illustrazione Non so come dire Sento di dirla molto meglio Rispetto a parole Anche perché Non sono un oratore Non sono veramente Il drago del discorso E Apro mille parentesi Mangio le parole Quindi Faccio veramente Fatica a dare Secondo me Il quadro Sintesi Sì Poi ovviamente Parliamo di Legato alla sfera artistica All'opera che sto disegnando Piuttosto a quella Che scriverai Quindi sì Se dovessi dirti Tra Arte visiva Piuttosto che Scrittura Sì Tutta la vita Un video muto Piuttosto che Un'illustrazione Una foto Ok È interessante È interessante Molto Sei un mix Mi sembra Mi sembra di vedere un mix Perché Poi la parte di Descrivere i personaggi E Chiaramente Prima di crearlo Magari È più Da scrittura Però poi lo devi tirare fuori Cioè ti senti Non è completa L'opera Se non lo tiri fuori Mi sembra di aver capito Sì sì È proprio il processo Da Penso al personaggio Lo butto sulla carta In mezzo Tra le due cose C'è Succede il Ecco lo Tai Allora Mentre Eravamo Eravamo da soli Prima È arrivato Tai Che abbiamo pensato Di tutto Non diciamo a Tai Che cosa abbiamo pensato Perché non ci rispondeva Però Ora è qua con noi Doveva essere Doveva essere Scusate Ero impegnato Di là Sì Immagino che Ero impegnato Non stavi giocando Con Di action figure Quindi Più o meno Più o meno E allora L'altra domanda Che ti volevo fare E che sarebbe stata Quella successiva È Qual è la tua formazione Perché tu hai detto Prima hai parlato Di film Sì Hai fatto i videomaker Sì Giusto Sì Ma la tua formazione Allora La mia formazione È banalissima Ho fatto L'accademia di belle arti Il liceo di Brera Che è quindi Il liceo pre-accademia Di belle arti di Brera E successivamente Sono entrato in accademia Poi Va da sé Che gli indirizzi Erano sempre quelli Di grafia pubblicitaria Piuttosto che Nuove tecnologie Quindi Si parla sempre Di computer Video editing Regia Montaggio Post produzione E Quindi in realtà La mia formazione È stata quella Ho fatto poi Quello che ho imparato A usare Paradossalmente L'ho imparato Come autodidatta E A parte un brevissimo Corso Che fece Allo IED Prima di Espatriare in Canada Ma giusto per Per capire un attimo Cosa significasse Vettoriale E per il resto Davvero Era solamente La La cazzimma Di imparare Cioè di voler Far qualcosa E di doverlo fare Con determinati software Che ho imparato a usare Ma perché appunto Volevo arrivare A quei risultati Quando Quando Hai una certa età È tutto Facilissimissimo Ma espatriare in Canada Cioè Sono scappato in Canada Un annetto Nel 2012 Perché Sì Qua avevo finito Un'esperienza lavorativa Di un paio d'anni Come assistente di redazione In una Ho picchiato il microfono In una redazione In cui non dovevo Lavorare con microfoni Ero uscito Da una relazione Lunghissima Insomma Travagli amorosi E professionali Quindi sono scappato In Canada Con due ragazzi Che avevano un gruppo Un duo rock Si chiamavano Sorry ok yes Si sono sciolti Ahimè E mi chiesero Di fargli il poster Per il tour Perché partivano Per fare il North by North East Che è questo festival In Canada E Nord America E io ho preso La palla al balzo E io ho detto Vabbò vi seguo Ve lo faccio In diretta Dall'albergo E siccome Non puzzavo Ero abbastanza simpatico Mi sono sentato A bordo Cioè ti sei imbarcato In un'avventura In Canada Così Sì ho detto Vado lì Magari per stare Tre settimane Un mesetto E poi ci sono rimasto Un anno Perché ho trovato Un'agenzia Sono entrato come illustratore In un'agenzia Non parlavo italiano Italiano Parlavo inglese Sì l'italiano Come vedi Lasciate si parlare Perché l'agenzia Era internazionale No l'agenzia Era canadese Canadese Sì la palpenfa Cyber Io mandai Il mio portfoglio Che all'epoca Era appunto Un mappazzone Di illustrazioni Vari estratti Che pubblicavo Poi sui Tumblr Però A livello Di Come si dice Esperienza Lavorativa Zero Cioè anche come Illustratore Banalmente Avevo fatto Sì sai I classici flyer Per le serate Perché poi Nascono Il più delle volte Così Questi lavoretti Qualche copertina Di qualche disco Di amici e non Che avevo beccato su MySpace Ancora si usava Quindi si faceva un po' La Mi prostituivo su MySpace Cercavo gruppi che mi piacevano E gli dicevo Matti va se ti regalo Una copertina Che intanto io Faccio pratica Tu c'hai una copertina Gratis E girano E quindi Quando sono arrivato Là in Canada Con questa serie Di copertine E cose Ho fatto il colloquio E al colloquio Io non sapevo dire Una parola Perché in inglese Davvero ero Mamma mia Ok E hanno chiamato Il capo Che era Canadese Ha chiamato Il direttore artistico Che era invece Peruviano Fernando E mi fece Il colloquio In spagnolo Porca Vabbè Che più o meno Sì capisci Che io parlavo In italiano In spagnolo E ci capivamo Un po' come quando vai Ad estate in spagna Da ragazzina E fai amicizia E mi hanno preso Il giorno dopo E ho iniziato a lavorare E ho imparato L'inglese in studi Cioè hai iniziato a lavorare Quindi come illustratore Sì Come illustratore Interno all'agenzia Quindi interno All'agenzia canadese Sì Wow fantastico Avevano dei clienti Poi super divertenti Perché lavoravamo Con Bacardi Red Bull Pensate Corona Quindi erano Brand molto Comunque sia Giovani E E lasciavano tantissima Carta bianca Soprattutto dal punto di vista E lì in quel caso Come funzionava Cioè ti commissionavano Che cosa Tipo un manifesto Per un evento Di Bacardi O di Esattamente Piuttosto che sai La pubblicità Sai O l'occhi visual Per quella campagna Sì Facciamo due proposte Avevo disegnato Avevo illustrato Un'edizione Del Game of Life Può essere Che è un gioco Tipo il gioco Dell'Oca In America Sì cazzo Era molto divertente Avevo pure disegnato Tutte le pareti Dentro dell'agenzia E stiamo parlando Comunque di un periodo Abbastanza All'inizio Per te Giusto? Sì Era 2012 E in quel caso Siccome tu hai Uno stile Molto forte Molto tuo Personale In quella situazione Lì Cioè tu Applicavi comunque Il tuo stile Avevi già Un tuo stile O ti adattavi A quello che ti dicevano Loro? Allora in quel caso Lì mi adattavo Che è una cosa Che in realtà Mi manca molto Perché banalmente Poi ho imparato A fare Tante altre cose Dal disegno realistico All'impostazione Un po' più grafica In stile Sai proprio Poster art Mi sono molto divertito A studiare A sperimentare E anche grazie a quello Sicuramente poi Sono diventato Cioè ho Ho trovato il mio stile All'epoca Se dovevo disegnare Tanto per disegnare E già lo facevo Quindi scarabocchiare Banalmente Mi ha fatto fare Come ti dicevo prima Le pareti Dentro dell'agenzia Con dei gessetti Con dei pennelli Me ne ha fatte colorare Io disegnavo Un po' Allora I miei eroi I miei illustratori I miei punti di riferimento D'illustrazione Erano all'epoca Ancora Jeremy Will C'era tanto C'era i boy Che è quel trittico Di Amsterdam Di illustratori Che fanno Hanno inventato La voxel art Quasi per intenderci La pixel art Quella potente Piena di dettagli Mi piaceva tantissimo Macbeth Quindi erano tutte Era tutta roba Molto Molto facile Immediata Ma anche al tempo stesso Che ti permetteva Di perderti In un pezzo Perché alla fine Facevano veramente Tutti delle tavole Super dettagliate Intricate Piene di particolari Pazzeschi Quindi era veramente Divertente Per me E per altre persone Che soffrono Probabilmente di autismo Cercare il Where is world Come si chiamava Te lo ricordi? Ah sì Where is world Sì 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 Io impazzisco Per quelle robe lì E quindi Partendo dall'idea Di Colpo d'occhio Che Nel senso Composizioni bilanciate Quindi a me piaceva Il fatto che non ti Cascasse l'occhio Da nessuna parte Ma al tempo stesso Fosse piena di elementi Diversi Da lì sono partito Per trovare un attimo La mia quadra Però sì Ho sempre prestato Attenzione A tantissimi dettagli Che però da lontano Sembrassero Sì Un corpo unico Sì sì Mi ricorda quasi Fra Sì sì Fra fa Tanti Tanti dettagli Ma poi Esatto Capoe Anche Fra sì 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 Stessa roba Anche lui tra le altre cose Linea nera e bianca Perché i colori Da un lato Per quanto mi piaccia La linea Che con un unico tratto Riesce a portarti Dalla macchina Alla casa Al cane Il colore trovo Che a volte sia limitante Perché il colore Riesce ad identificarti Quella zona Allora ti basta Quella macchia di giallo E di Capito Per farti il maione Piuttosto che Quindi si perde un po' Quella Quella cosa romantica Dell'effetto texture Io lo chiamo Anche se non è poi una texture Perché sono tanti soggetti insieme Però sì da lontano Colpo d'occhio è quello Come con Fra Che vedi un suo lavoro da lontano E dici Wow Sembra Non sembra niente Poi ti avvicini e c'è tutto Sì 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 C'è il mondo Esattamente Fra disegna il mondo Praticamente Ho chiesto a tanti illustratori E a tanti altri artisti Qual è il tuo processo di lavoro? Cioè Il tuo processo Da quando magari ricevi un brief A poi quando fai l'esecuzione Spiegaci un po' È vario Oppure ha una cosa ben precisa Allora parto dal presupposto Di star lavorando con un essere umano E non con una bestia Ma io intendevo bestia Ah con una bestia tu volevi Però Con il cliente quello bestia No no Allora se penso al cliente satana Ah ahimè lì ti tolgo tutta la poesia Quindi mi sa che è meglio non parlarne Il processo invece Che mi piace seguire Quando parlo con una persona Che magari Sa Cosa mi sta chiedendo innanzitutto E che Che è appassionato E che Che magari addirittura Ti lascia carta bianca Beh allora in quel caso Mi piace fare un po' Anche un lavoro da profiler Nel senso Identificare il cliente Capire veramente Qual è innanzitutto Il suo gusto E cosa potrebbe renderlo felice Sì Poi questo non è un lavoro di prostituzione Quindi Si parla sempre di compromessi Come ti dicevo prima Certo Quindi non farei mai Se mi chiedi una bambina in bicicletta Col gelato È difficile che io ti tiri fuori Una bambina in bicicletta Che non sembri Un mostro spigoloso Perché purtroppo Non rientra nelle mie corde Quel tipo di tenerezza Realistico Sì sì Ho capito O un personaggio Che deve essere Più che altro Deve trasmettere Un'emozione più tenera O qualcosa Sì dipende Un altro stile Qual è il brief Esatto Se già partiamo dal Johnny Fammi una famiglia felice Probabilmente inizio più a pensare A ragionare Per alternative ai soggetti Quindi Non ti faccio la bambina felice Ma ti faccio qualcosa Che ti può richiamare Una bambina felice Alla mente Perché mi viene molto più semplice E sono sicuro Che anche il risultato Poi venga meglio Perché come ti dicevo Prima per me Fare una bambina Sono Sempre dalla bambina Per carità Però Sono sicuro Che non mi verrebbe fuori Un bel Un bel lavoro Ecco Comunque sia Sì Sai Il lavoro di Di un illustratore Comunque sia Il lavoro visivo Sta tanto anche nel 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 cercare di riportare Un mondo Un immaginario Comunque sia Con tutti i suoi crismi Quindi Gli stati d'animo Le sensazioni Che provi guardando una roba Banalmente Io quando guardo Una foresta Con una capannina Mi sento malinconico Ma al tempo stesso È un'immagine calda Perché mi dà l'idea Di un porto sicuro Nel mezzo Del Del pericolo Se vuoi Perché è un bosco Quindi il bosco Per antonomasia È il posto in cui ti perdi Il posto in cui Te semagnano Pericoloso Sì Quindi in quel caso Capisci Banalmente Se mi chiedi Disegnarti Il concetto Di sicurezza Di tranquillità Probabilmente ti faccio Una casetta In mezzo All'inferno Al bosco Nel senso di bosco Tranquillità E sempre andare Pescare per Provare a cercare Immagini alternative Se non sono a mio agio Con quello che mi viene chiesto Dal brief Questo è il primo È il primo passo Poi se invece La cosa è molto più Semplice Anche il soggetto Non mi turba In quel caso Procedo sempre Con La classica Boz E poi La vettorializzazione L'esecutivo Il tuo approccio Quando il cliente Invece Ti Ti dà Diciamo Delle modifiche O comunque Stravolge un po' I piani Come Sei Sei tranquillo Oppure O un agente Per questo C'è l'agente Giusto Ok Perfetto Sì Però Ad essere sincero È capitato Due o tre volte Proprio Di Trovarmi Totalmente In disaccordo Con il cliente Proprio da dire Cosa mi stai chiedendo No E in quel caso Comunque Si trova La Anche lì Il compromesso Magari poi In quel caso Il lavoro non lo pubblico Banalmente Che è una roba Orribile Perché Ci tieni sempre Almeno io personalmente Sono come il bambino Che fa la cacca Ci tiene poi A farlo vedere Certo Quando non lo pubblico Dentro un po' Quel bambino lì Non l'ho fatta vedere Esatto Però Diciamo che Quindi Avendo tu Comunque Uno stile Ben preciso Spesso Comunque Ti commissionano Delle cose Perché Ti conoscono Come Illustratore Che ha Quello stile Lì Giusto Sì Determinanti soggetti Anche certo C'era un periodo Che diseghiamo solo lupi E mi continuavano A chiedere Da tatuare lupi Lupi da tatuare In tutte le salle Che storia Quindi è un po' Un circo Nel senso Che tu pubblichi Una cosa E poi tutti Ti richiedono Quello stile lì E quella cosa lì E diciamo Che poi Il brief È molto semplice Perché Arrivano da te Già sapendo Che vogliono Quella cosa lì Perché tu diventi Quello del In questo caso Lupo Esatto Ma Per arrivare lì Cioè per arrivare Ad avere un tuo stile E ad avere questo tipo Di commissione Come Come l'hai fatto Cioè nel senso Qual è stato il tuo approccio Il tuo metodo Allora Un metodo è sicuramente Il Spattere la testa Quindi continuare In perterrito A fare quello In modo tale Da diventare Quello del Adesso dico lupo In questo caso Quello del Del lupo Perché al fine Anche un Cioè tu stai educando Anche secondo me I futuri clienti Piuttosto che in generale Il pubblico A conoscerti Per qualcosa Quindi tu stai Diventando fortissimo Con quella cosa lì Che poi tu la faccia Bene o male In ogni caso Verrà ricordato Per quello che fa Quella cosa Verrà ricordato Vuol dire Ok devo fare una roba simile Chiamo lui Perché Certo Quindi sì In realtà la forza Dello stile proprio E proprio secondo me È quella Del continuare In perterrito A spingerci A andarci contro Poi ovviamente Io lo facevo anche Perché mi piaceva Finalmente Io sono Io amo disegnare Perché vabbè È anche molto terapeutico Sai È una bellissima Via di fuga Tutto quello che vuoi Se ti perdi Dentro Sì No immagino Che sia come Per i musicisti O per i chef O per Insomma Quando Il processo creativo È qualcosa Che solitamente Ti aliena E quindi Ti dà qualcosa Già a prescindere Quindi il fatto Di Quando dico Sbatterci a testa Non intendo Che deve diventare Un lavoro E dici Cazzo Domani ho la sveglia Devo disegnare Che palle Io Quando disegnavo Facevo quelle cose Le facevo A prescindere Anzi Le facevo Quando avevo Tempo libero Quindi disegnavi Anche per te Assolutamente Pubblicavi e creavi Cose per te E poi Il tuo portfolio Si formava Delle cose Anche che facevi per te Io mi ricordo Da piccolino Ho lavorato al bar Del cinema Di Pioltello Disegnavo Nei momenti morti Nei rari momenti morti Quando non c'erano Cine Panettoni O altre O Fast and Furious Di turno Sui scontrini Quindi avevamo Sti rotoli Infiniti Di scontrini Non battuti Io li finivo Disegnando le robe Perché a volte Sinevamo rotoli Dicevamo Che cazzo di fine Hanno fatto I scontrini Non abbiamo avuto nessuno Perché Johnny C'ha disegnato E avevamo Un retrobar Pieno di scontrini Si era un po' Tipo un Si uno entrava Diceva Qua ci abita Un serial killer Perché poi li facevi E li appendevi dietro Quindi avevi fatto Un muro Sì Sono un po' Un accumulatore seriale Poi non li faccio vedere In giro Però tipo Anch'io a casa C'è tipo 16 librerie Lo raccontavo prima Gabri Chiuse negli scatoloni Perché sto un po' Squottando È un periodo Un po' E quindi sì Mi tengo tutte Ste robe qua Non c'ho ancora Quei disegni Secondo me Qualcosa Sarebbe bello Tirarli fuori Fare una sorta di mostra Piccola mostra Di robe Sì Sì Sono in vendita al sito www.questositononesiste.com Sì questo sito non esiste Ma hanno rubato il sito Dei signori cinesi E ora vendono delle radici No no Ti parlo di tanti anni fa Io avevo Johnnicobalto.com Che feci scadere Perché sono una bestia Di satana E anche perché Il sito fondamentalmente Poi Mi era stato quasi un po' Imposto Fatti il sito È professionale Dei fare il sito Ma non l'ho mai usato Perché non davvero Avevo i social Quindi nel senso E non avevo un e-commerce Quindi il sito era veramente Lo usavo per mettere Gli eventi a cui partecipavo E quindi scaduto Te l'hanno fregato? Io non me ne sono accorto Hanno preso il dominio Non so per quale motivo Non ho letto le mail Guarda che ti sta scadendo Il dominio E quindi quando sono tornato C'era questa foto Di questa signora Sulla sessantina Che si teneva la testa Ed era tutto ovviamente Scritto in cinese Quindi non capivo nulla E traducendolo Ho capito che vendevano radici Tipo per Per far di infusio Ma la cosa bella È che magari qualcuno Dei tuoi fan Avrà detto tipo Cazzo è talmente matto Capito che ha fatto Questo sito di radici cinesi Con tutte le scritte cinesi Sì sì No è una roba concettuale Che poi Siamo arrivati Lui Adesso lavora con la Cine Quindi c'è questa signora Ma infatti potevi giocarte Sì Ma quello è ancora il mio sito È il mio sito Cioè è il mio sito Sai che ho paura Di andare su gionnicovolto.com Adesso magari vendono calamari Insomma Qualsiasi cosa Ti sei perso prima La descrizione Del Perché è il suo nome Eh ma infatti volevo Volevo sapere Vabbè Non ripetiamolo però No vabbè Vabbè Interessante Io ho questa immagine Dentro la mia testa Di uno senza Senza maglietta Grosso Muscoloso Con gli occhiali Tipo Ray-Ban Sudato Con l'olio Però pompatissimo Che si chiama Johnny Cobalto Ah no 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 Al fine Dynamite Jack Si è chiamato il tipo Il film Stavamo parlando appunto E aveva una canotta Ah aveva una canotta Però il Ray-Ban ce l'aveva Bravo Ci hai preso Eh ci ho preso L'immagine dentro la mia testa È quella Sì Era un outfit proprio Ma questo me lo ricordo Perché ho visto La tua intervista Con Dario E no Fantastico E Ale Sì sì Ma una roba che Tu mi avevi parlato in off E Che non abbiamo Diciamo Introdotto all'inizio Tu sei freelance O sei in un'agenzia? No io sono in un'agenzia Sei in un'agenzia Però c'è la faccia da freelance Ah sì C'ho l'animo da freelance Nel senso che faccio tantissime robe Oltre al lavoro d'agenzia Però il lavoro d'agenzia Ha una certa È diventato utile Quando mi sono trovato Nella situazione Di dover comprare casa Ok Quindi Andare in banca Con un lavoro A tempo indietro Con un contratto A tempo indeterminato Mi ha dato Cioè tipo Ho fatto mutuo Eh sì Questa cosa Due mesi prima Che ero freelance Ma letteralmente detto Non avrai mai un mutuo Quindi Sì Paradossalmente Ovviamente sai Un freelance che lavora bene In linea di massima Guadagna di più Che non ha Però vabbè Insomma Così è come funziona il mondo E quindi Anche per x motivi Avevo deciso di tornare in agenzia Poi Conoscevo i ragazzi Della agenzia in cui sono entrato Il direttore creativo Che è poi lo stesso Che mi aveva già In realtà Preso sotto la sua ala Con Visionar Che era l'agenzia Di rappresentanza Per illustrazione Che tuttora Mi tiene d'occhio E picchia i clienti Se non mi pagano Ok È l'agenzia Che diciamo Che ti protegge Che mi protegge Ok ok E quindi sono fondamentalmente Rimasto in famiglia Entrando in In Sir Si può dire Circular Facciamo nomi Sì sì Facciamo nomi Tipo adidas Si può dire No No Veramente Ah boh Diciamo Circular Allora Non sono entrato in adidas Se l'adidas Vuole finanziare questo podcast Perché no Esatto Io ho su delle adidas Ok Con il logo 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 della Nike Ma sono adidas Non dire adidas Prova a dire un altro brand Circular Tutti gli altri si possono dire Ok Tutti Tutti gli altri Tranne adidas Sono entrato vestito Da Giovanni Rana In Circular E sono rimasto lì Perché mi sono trovato Molto bene Ok Ok Quindi sì Adesso Io la fondamentalmente Gestisco Gestisco Mi occupo di video Ok Sono Sì quindi Fondamentalmente Post produzione Ok Quindi da Che poi In linea di massima Molti dei lavori Sono quasi esclusivamente Post produzione Perché si parla tanto Di animazione Di Di conseguenza Sì Sono tornato a fare Un po' quello Che facevo Prima di illustrare Che è stata Una boccata d'aria Ho bisogno di cambiare Ogni tanto Sì Ok Quindi Cioè avere Diciamo Questo doppia cosa Dove da una parte Fai Su commissione Delle illustrazioni E poi dall'altra parte Invece lavori In agenzia Sì 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 Quindi segui I progetti video Girati E anche animati Sì Tutti e due Entrambe le cose Sì Ok Quindi anche il montaggio Guarda in linea di massima 90% di lavoro è proprio video editing È solo montaggio È color Sound design E tu gestisci Oppure fai Gestisco E faccio Perché adesso L'agenzia si è ingrandita anche molto negli ultimi anni E sono entrati anche più clienti E più lavori Inizialmente eravamo un po' Chiaro da solo a gestire il reparto video Adesso invece ci siamo in Quattro Ok Una persona fa più robe Però noi siamo tre sul video No beh perché Allora vabbè Ho scoperto attraverso quell'intervista lì E anche adesso Insomma la tua passione per il cinema Però in effetti Ci potevo anche arrivare Perché Io mi ricordo E ho di là Alcune delle tue tavole Già di cosa stai parlando Che comunque sono molto legate al cinema Perché tu lì avevi fatto una citazione Dello squalo Giusto? Che si chiama Gambe Eh sì Geniale Tu l'hai mai visto? L'ho visto sì Ok geniale quella roba lì E poi quella di Pulp Fiction Giusto? EA Fantastico Infatti Ho detto Effettivamente ci potevo arrivare Che è un grande appassionato di cinema Non c'è solo queste due cose Io sembra che abbia una vita sociale Ma in realtà sono qui in casa Guarda film tutto il giorno Tutta la sera Tutto il giorno lavoro Tutto il giorno lavoro Di sera guardo film Beh però il cinema è Cioè comunque è un mondo fantastico Dove prendere tantissima ispirazione Sia a livello visivo A livello di storia A livello di personaggi Insomma Cioè lì dentro c'è veramente un mondo È un bel calderone Sì ma soprattutto la cosa che ho capito è Capire i riferimenti che fa il cinema È anche molto interessante Più che avere il cinema come reference Il background è da dove il cinema ha preso ispirazione Per capire quel film lì In specifico È anche interessante infatti studiare Teoria cinematografica O come è fatto un film Banalmente Io in accademia Avevo fatto un paio di corsi Molto interessanti Quando inizi a capire Che tutto quello che viene inquadrato Il classico fucile di Chekhov Quelle cose lì Ti guardi il fucile Perché alla fine Quel fucile verrà usato Ti apre anche un mondo Perché allora ti diventi Anche il detective del film Poi ci sono film e film ovviamente Ma il film di merda Cinque volte su sei Inizia e sai come finisce Ah beh Perché riesci a leggerlo E qui in realtà è anche interattivo Da quel punto di vista Perché io poi mi diverto A spoilerarmelo da sole A dire Pezzi di merda Lo sapevo Ti diverti Ah certo certo Però sì 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 Il cinema Lo amo anche perché È un media veramente Che poi unisce Come parlavamo prima Dalla musica Alla moda Alla sceneggiatura Alla scrittura Cazzo È veramente È un'unione di tanti talenti Impressionante Sì sì Infatti Cioè il cinema si può leggere Sotto tantissimi livelli Cioè Quindi magari Quando tu capisci La storia Allora magari segui le storie Ma poi c'è tutto un mondo Di inquadratura Di fotografia Di linguaggio Da tantissimi punti di vista Poi anche Audio Sonoro C'è C'è tutto dentro Sì 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 Banalmente guardi Che ne so Io Nolan Ultimamente lo guardo Vabbè le trame Che sono sempre per carità Però dal punto di vista sonoro C'è Dunkirk Tanta roba Cazzo È È allucinante Paul Thomas Anderson Molti dicono Tu coglioni Che non stai neanche raccontare cosa Però come lo stai raccontando Ah sì È figo È pazzesco Cioè io rimango a bocca aperta Due ore E mi dici Di cosa ha parlato No ma infatti Paul Thomas Anderson Cioè anche film Semplici come Punch Drunk Love Non so perché Rimani incollato Sì 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 Rimani E non guardo un secondo Il telefono Che per me è proprio il Rotten Tomatoes Voto Massimo Non guardare neanche una volta Il telefono È proprio Vuol dire che mi è piaciuto Tanto tanto Capito Sì Uno dice anche L'arte poi soprattutto In tempi di pandemia È diventata Per molti versi Di certi punti di vista Una paraculata Perché Come dicevo prima Sbatter la testa Non vuol dire Doverlo fare Per arrivare a una cosa Vuol dire Farlo a prescindere Dal profilo Instagram Dalla possibilità Di mostrare La cosa che fai Anche perché Capisco che sia molto Velenoso Per Per la gente Soprattutto per Per la gente più giovane Che vorrebbe iniziare A fare qualcosa Trovarsi davanti Un miliardo di stimoli Poi Stupendi Stupendenti Perché io stesso Vedo quando Do una scrollata Su Instagram Delle cose meravigliose E al tempo stesso Dire Cazzo che bello Sarebbe fare quella cosa lì E io a volte Mi trovo delle cose Ho gente che mi chiede Ascolta ma che corso Posso fare Per disegnare così E mi mandano robe Cosa cazzo mi stai chiedendo Cioè Non devi fare nessun corso Vecchio Va benissimo Una volta c'era l'ideale Del calciatore Adesso invece con Dico calciatore Piuttosto che Adesso veramente Soprattutto con la pandemia Che ci ha costretto A stare in casa Davanti al coso A molti di noi Secondo me Si è proprio Spaccata La realtà Delle cose Cioè la gente Si è fatta un'idea Del Di questo lavoro Che non esiste Cioè Voler arrivare A fare quello Perché vedo che Vedo che lo fanno Si perché mi piace Avere lo studio Con le stampe attaccate E il cane bello Nella foto E la luce figa E le piante Ma è irreale Non so come dire Si ma c'è anche questa Questa sensazione Delle persone Ma è anche mia Nel senso che Tu guardi una cosa Sui social Siccome è tutto perfetto Va tutto bene Tutto funziona Alla perfezione Tu dici Cazzo È così vicino a me Questa cosa Che la posso fare anch'io Cioè la voglio fare anch'io Adesso E poi Quando inizi a fare Quando inizi a capire Quanti anni Ci sono dietro Per poter fare quella roba Cambi idea E non so È tutto molto più facile Quello di sicuro Nel senso L'idea Di fare una roba Ti sembra molto più Realizzabile Più vicina forse Non lo so Se sto dicendo poi No assolutamente Però si mi dà proprio L'idea di essere Una roba Che la gente Cioè che Si è diventato più facile Per la vicinanza Cioè noi siamo vicini Ai social E i social Sono vicini a noi Cioè quelle persone Sembra che Sono accessibili a noi Però è Cioè la cosa brutta È che per quanto Può sembrare più facile E quindi può sembrare Più facile Una persona profana Al tempo stesso Non lo è Quindi Se già una volta Il lavoro degli illustratori In questo paese Non era manco considerata Una professione vera Ti parlo di qualche anno fa Adesso Quando ancora C'è in più La roba del Ma dai Ma quanto ci metti È ancora più facile Lo fanno tutti C'è Dalli Che se scrivo Ritratto Van Gogh Di un cane Me lo fa lui Cosa cazzo ci metti Allora lì Capisci Va da sé Che se tu hai L'idea che una cosa Sia molto facile da fare Al tempo stesso Non è più facile Ma sei bombardato Da quelle immagini Quindi ti sembra Veramente una cazzata Farla È un problemone Ah sì assolutamente È frustrante Assolutamente Visto che hai tirato fuori Intelligenza artificiale Tu cosa ne pensi Di questi software Di queste intelligenze artificiali Che creano immagini Allora Poi puoi fare in modo Di farmi dire una roba Che non L'opposto di quello Che sto per dire Va bene Io adoro queste cose Ok no Ma io Cioè nel senso È una domanda Tu puoi rispondere Quello che vuoi Allora io sono No Sono un grande fan Del glitch Cioè nel senso Quando il computer Quando la macchina Ci mette il suo Che quindi mi fa qualcosa Che non era voluto Un po' la teoria del caos Del Di Jeff Goldblum In Jurassic Park Ok no L'idea di aver creato qualcosa Che a sua volta Crea qualcosa Che io non potrei creare Che quindi diventa incontrollabile E super sexy per me Quindi Il fatto che una macchina Riesca a pescarti In quattro secondi Immagini Dall'etere E metterti insieme Qualcosa di credibile Per me è magia Cioè io sono Ecco Io sono una di quelle persone Ok ti so usare i software A mena dito Però tecnologicamente parlando Sono un ignorante Cioè patentato Quindi mi dai Premiere After Photoshop Illustrator Vai Siamo migliori amici Sì per il resto Esatto Mi chiedi tipo Di banalmente Formattare un computer Probabilmente inizio a piangere Quindi Quando vedo Una roba del genere No Quindi tu Cioè Il futuro te lo immagini Di una sorta di collaborazione Dove tipo Queste intelligenze artificiali Possono tra virgolette Anche Aiutare Interagire O liberare Di più Ancora di più Il che sto cercando Banalmente Con questi soft Sai Scrivi Quello che vuoi Ah quindi Tu già lo usi Allora Siamo ad un punto interessante Perché questa è la prima volta Che sento qualcuno dire Che usa Un'intelligenza artificiale Al lavoro Esatto Al lavoro Cioè è la prima volta Nel mio caso Anche io Eh la gente che fa Non so se si chiamino Visualizer Cioè ragazzi Ho lavorato in un'agenzia di eventi Molto grande anni fa Ed eravamo in tanti A fare questo mestiere Cioè visualizzare L'idea del direttore creativo Da proporre al cliente E fondamentalmente Un lavoro di Appunto Arriva al direttore creativo Dice Questa è la scena Piramide Cinque cammelli Quattro acile Due elefanti Disegni Piuttosto che Photoshop Però fondamentalmente Quello che devi fare È tirare fuori il visual Cioè quello che ha pensato Il creativo E farlo vedere al cliente Che più delle volte Era una persona Che non Che non sapeva leggere Quindi Ci serviva veramente Essere molto didascalici Ci serviva veramente Puliti e immediati Se io avessi avuto Dali a quell'epoca Quindi tu usi Dali Sì Dali 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 Sì Perché può essere Dali Salvador Dali Cazzo Se ci fosse stato Anni fa Io non avrei lavorato In quell'agenzia Probabilmente Perché Tra virgolette Facevo esattamente Quello che fa Dali Adesso Sì Infatti Questo è un argomento Un altro argomento Bello tosto Cioè Vabbè Ancora Non mi sono fatto Un'idea Ben precisa Sono qui Anche per chiedere Cosa ne pensano Gli ospiti Di questo podcast Assolutamente Ovviamente Parliamo di mood board Di reference Che poi Magari più delle volte Vai anche ad aggiustare Un attimo Con photoshop Però sì Di base Secondo me Cioè Super super utile O almeno Per questo tipo Di Di lavoro So che c'è gente Che lo usa Anche adesso Come base Per poi partire Con le proprie Illustrazioni No Quindi Facilmente La composizione Nella tua testa Poi chiedi La reference Visiva E da lì Prendi gli spunti E lo usi Appunto Come base Ho visto Un ragazzo Che era Agli inizi Cioè E agli inizi Diciamo Lui è stilista Tipo E ha usato Intelligenza artificiale Per Creare dei modelli Che So che Sta facendo realizzare Veri E quindi Sta Proprio facendo Sì Anch'io Mi sto un po' Diciamo Entrando Nel mondo Della intelligenza artificiale Che genera Poi immagini E io ci pensavo Prima cosa Uso Pinterest Ma Pinterest È basato Su un'intelligenza artificiale Cioè Cerchi un'immagine Di colore rosso E ti dà tutto Pinterest ha quella Figata Per la cui puoi anche Evidenziare una parte Dell'immagine E ti ricerca Diciamo Cose simili Anche solo A quella porzione Dell'immagine Quindi Uno dice No io Non uso da lì Però uso Pinterest Stai usando comunque L'intelligenza artificiale E poi la vedo molto applicata A quello che diceva Tai Cioè Io mi creo magari Un modello Ad esempio Vuoto Senza vestiti Non nudo Ma Un modello Dove poi ci vado a disegnare Sopra E mi dà un supporto Su una posa Ad esempio Al posto che Usare un manichino Penso che A quel punto Possa essere utile Ha tantissimi usi Storyboard Sì esatto Anche per storyboardare Bravo Sì assolutamente Perché no Tenendolo come base Sempre Ma vedo anche Che adesso Lo usano Per creare Questi fake video Ne ho provato Uno non è da lì Era un altro Che adesso Mi sfugge il nome Banalmente Ho caricato una foto Tra l'altro Che ho fatto Con la webcam del Mac Ok Nulla di eh Condito lo sfondo Super pasticciato Cioè ero in cucina Quindi avevo Ten robe Poco illuminato Insomma brutto L'ho caricato Ho scelto un testo Ho scelto un tono di voce Una lingua di partenza Tra tutte le nazionalità Il sesso E Tono di voce Sì quindi anche l'umore Ho messo arrabbiato In Non sto scherzando Credo che In meno di un minuto Mi ha tirato fuori E ho elaborato video Partendo da questa foto Con Il sottoscritto Che parlava E muoveva anche le mani E mi muovevo Su uno sfondo Super sporco Che lui ha ricostruito Perché Nel momento in cui faccio così E si vede cosa c'è dietro E non ho un muro bianco Sì Ed era E vi giuro Era perfetto Non si vedevano i classici Sai I rigonfiamenti Piuttosto che Glitch Spaccature Era veramente perfetto E partiva da una foto brutta Quindi era un brutto video Io Me l'ho messo una voce Da donna Arrabbiata E era veramente Quindi un brutto video Eh sì Però È impressionante Cioè La vero Era verosimile Sì Era veramente Cioè io Fosse stata adesso La voce di un uomo Avrei potuto benissimo Una persona che non mi conosce Pensare che fosse un video Ovviamente In webcam Quindi con tutta Con la qualità del caso E via dicendo Però in meno di un minuto Mi hai tirato fuori una roba Che se dovessi partire E fare io con after O con Ah beh Sparo Non lascia stare Sì 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 Parliamo di un lavoro Magari di tre giorni Fatto da un professionista Ci mette meno di un minuto Un software gratuito Sì Poi non serve a un cazzo Perché animare una foto che parla Cosa mai ti potrà servire Sì Taglia Tra cinque anni Questa Questa Quello che hai appena detto Già sarà Se non lavori per la CIA Perché ho detto che cazzo serviva Fare delle fake interview Tipo A meno che non vuoi malissimo A un tuo amico Gli fai una foto Gli fai dire robe tremende Tipo a sua madre Gli mandi il video alla mamma Sì A meno che tu non sia un pazzo Psicopatico Ora come ora Non so cosa possa servire Però è impressionante La velocità E la qualità Dell'output E un'altra cosa Che mi aveva impressionato È che Adesso non mi ricordo Beh c'era la mia fidanzata Che chiedeva a una sua amica Che aveva una foto Di un ragazzo In casa E diceva Ma scusa ma chi è questo Non è il tuo fidanzato Non è tuo fratello Non è nessuno dei tuoi pari Chi è questo No l'abbiamo usato in un set Perché adesso per riempire Le foto Usano Adesso non mi ricordo C'è un'intelligenza artificiale Che ti genera delle facce La conosco Per non dover pagare diritti Di utilizzo di immagine Eccetera eccetera C'è questo software Che appunto genera Delle facce random Realistiche foto E quindi per riempire Sai la classica scrivania O il classico Che storia Set In cui c'è Delle frutine Di persone O di familiari Così a caso Usano quello E quindi lei si è portata a casa Questa cosa qua Alla messa lì Quando hanno detto Ma chi è questo Nessuno Nessuno Non è nessuno Nessuno Però è qualcuno È bellissimo Però è qualcuno Incredibile No è super interessante Questa cosa È interessante però Ecco c'è una C'è una questione Secondo me Sull'intelligenza artificiale No Che Per dire Se io adesso per esempio Scrivo su queste piattaforme Così no E dovessi scrivere Fammi un drago In stile Johnny Cobalto Per esempio Come funziona Cioè nel senso Lui ha l'accesso A tutto l'archivio internet Per poter riprodurre Lo stile O no Siccome non ci arriva Non ci ho provato Non ci arriva Non ci ho provato Devi dare tu l'input forse No perché secondo me Cioè su Johnny Cobalto Esiste poco Ed esiste su Instagram Quindi non so quanto Effettivamente lui Perché io Banalmente ho provato Con mio nome e cognome vero All'inizio Prima scrivo solo Nome e cognome Foto Veniamo fuori delle robe Vabbè Ovviamente Anche perché poi Quello che ti fa Che mi dicevi adesso Che ti genera persone verosimili Un conto Da lì invece È quello che ti fa sempre Tipo Tieni fuori Con un 14 dita No certo Ovviamente adesso Diciamo Le intelligenze artificiali Ti aiutano Magari a fare Un po' di ricerca A generare delle immagini Sicuramente bellissime Però Siamo ancora A un livello Però Come Per cose fake Che dicevi prima Cioè Si possono riprodurre Cioè magari L'intelligenza artificiale Riesce a riprodurre Uno stile Sì assolutamente Abbiamo visto tanti esempi Dai più banali Con Van Gogh Perché è un attimo Più riconoscibile Però sono impressionanti Effettivamente Perché Per uno che non conosce Van Gogh Probabilmente Si che non conosce Le opere bene Ma conosce vagamente Lo stile Uno genera Un'immagine Di quel tipo E dice No questa è Un'opera vera Di Van Gogh E tutti potrebbero Pensare Che veramente Esiste quella cosa Io non so Se è capitato a voi Ma Già su Instagram Mi capita Di vedere Immagini generate E Aspetta un attimo Ma questa è generata Qualcuno l'ha disegnata È vera Faccio Quel Dieci secondi di fatica Poi capisco Che è falsa E Solo L'unica cosa Che mi dà L'idea Che è falsa Che è stata generata Sono gli occhi Perché a un certo punto Gli occhi sono storti Ah sì Facci caso La maggior parte Di quelle Umanoidi Generate Hanno gli occhi storti Perché Sì sì Tutto il resto Perfetto O le mani Le mani sono tutte Sì sì No le mani Mi fanno morire Sì ma Ma uscito dall'argomento Intelligenza artificiale Che potremmo stare L'argomento black mirror Sì 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 Ma dopo vi faccio vedere Un software Che ho installato Assurdo È di NVIDIA NVIDIA Canva Si chiama Cioè tu disegni Con il pennello E ti crea Landscape Dopo ti faccio vedere Assurdo No io cioè Ovviamente Non lo so Cosa andrà Ci vorranno sicuramente Tantissimo tempo Ancora Ah beh sì Ma Però Appunto Non lo so Sì 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 Tra l'altro Una curiosità Una curiosità Che Ha detto Una Uno scienziato Stavo leggendo Questo articolo Lui ha detto Che L'esplosione Dell'intelligenza artificiale È successa Grazie Alle placche Alle gpu Praticamente Perché lo sviluppo Lo sviluppo Delle gpu Ha permesso Calcoli più Più Elaborati Più elaborati Processori grafici Per videogiochi Per computer Sì 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 Assurdo Non parliamo di videogiochi Che è un altro mondo brutto Tu pensa che Prima A rivoluzionare La pornografia Adesso sono i videogiochi Giusto così Per Ma Giochi porno Bisogna fare Esatto Giochi porno Giochi porno Ma prima abbiamo detto Tu in agenzia Hai il tuo lavoro Non parliamo di clienti Dall'agenzia Ma i tuoi clienti Per quanto riguarda L'illustrazione Principalmente Quali sono? Tanta editoria Ho lavorato per lo più Con magazine Riviste Lavori come illustratore Tanto anche nel mondo Del fashion Ho fatto Sì Che sono sempre quasi Più legati agli eventi Quindi Mi è capitato Di essere contattato Dal brand Che voleva fare Appunto l'evento Con il live painting In vetrina Piuttosto che La customizzazione Di scarpe Giubbotti Sì Quindi Se dovessi dirti I due canali Che lavorano di più Con illustrazione Sono l'editoria E il fashion Editoria e fashion Sì Almeno io personalmente Non ho mai fatto un lavoro Per No Ho fatto anche un po' di lavori Per due locali Per un ristorante Sì Per un'altra birreria Però Questi me li ricordo già Ci sono più Saltuari Però può capitare Sì Devo pensare proprio Al lavoro Di illustrazione Di illustrazione Sì Fashion Del tipo Cioè Crei un'immagine Per una collezione O per No Mi è capitato proprio Di customizzare capi Quindi O scarpe Appunto Giacche Piuttosto che Sai C'è l'evento Quindi magari fai anche Un mini vernissage Un live Ti chiedono di Appendere due robe E di fare un live Esatto Ok Quindi viene contattato Come artista Per customizzare cose Prodotti Sì C'è stato un periodo In cui il live painting Col DJ set di fianco Era Sembrava Capito Certo Sì la roba Molto fashion Ovunque Lo trovavi esatto Anche a Lidl Un giorno sono entrato A prendere C'è reale C'era un live painting All'Eurospin Con DJ set Nell'area pane Effettivamente fa scena Comunque Cioè se vai in un evento In qualsiasi evento E trovi uno Che ti fa un muro Che fa live painting È bello È bello È bello L'ultimo Che sono stato C'era Luca Barcellona Che faceva un Un pezzo Che scriveva Scemo chi legge Esatto Però con stile Con stile Ammarsha che stile È uno È uno È uno Che suonava Dal vivo Con i vinili Cioè un po' Hip hop Ma il mondo Dell'illustrazione È molto bello Cioè è molto interessante Io ci sto entrando Proprio Conoscevo Conoscevo alcuni illustratori Ma ci sto entrando come Sto scoprendo il vostro mondo Dell'illustrazione No? Ma parlaci un po' Dei banchetti Dei Degli eventi Tipo Paciugo O altri eventi Com'è questo? Perché ti vedo Sempre nei banchetti Quindi immagino Ti piaccia Proprio interagire Con altri illustratori Con le persone Allora dirò una cosa Sono sincerissimo Ho smesso Per qualche anno Di farli Poi tra pandemia Pandemia Sì Va bene Non per scelta Quando vado a un mercatino Solitamente ho le stesse cose Che ho da Una vita A meno che proprio Non sono passati tot anni Allora dico No aspetta un attimo Ma non per gli altri Perché chi se ne accorge Lo so io E allora magari Aggiorno un po' Il Il book Sì Il book Esatto Ma in linea di massimo Lo faccio proprio Per il piacere Della villeggiatura Perché è un po' Tipo il weekend In campeggio Sai quando vai al mare E trovi i tuoi amici Che vedevi solo al mare Da piccino Allora non vedo la di vederli Uguale Cioè quando vado a un mercato Io so che becco Giordano So che becco la Bersellini So che becco tutti Insomma tutti quei miei amici Che storie Che non vedo mai Perché abitano Giordano in realtà Abita a Milano Non ci becchiamo mai Però appunto I amici di Parma Da Bologna Da Genova Ci becchiamo sempre Tutti insieme A sti mercatini E ficce sempre in cacciola Nel senso che Poi io sto seduto Al mercatino Al banchetto In linea di massima Un'ora su 20 In quell'ora Mi becchi sempre Io ti becco sempre Al banchetto Però è pazzesco Ah ma infatti È vero No ma una volta Ti ho beccato Al banchetto di Giordano Infatti Ovviamente Però sì Tendenzialmente Ti ho sempre beccato Al banchetto Se devo essere sincero Non li faccio per Io e sicuramente Tanti altri Sono sicuro Non li fai per vendere Anche perché poi Avendo un altro lavoro Sto bestemmiando Perché poi c'è gente Che fa quello per lavoro È tutto Quindi per carità di Dio Però io Che ho un altro lavoro Posso dire di farli Veramente per il piacere Di ribeccare la gente Cioè davvero Non Il più delle robe Anzi Tante cose le regalo Infatti Ai banchetti Venite ai banchetti Che regalo le cose Sì ho visto Poi fai i giochini Tipo Il memory Il memory Cioè C'è la fila a Parma L'ultima volta Ma ha chiamato Isabella Bersellini E lì dovevi stare lì Al banchetto però Per giocare Eh sì Perché c'è il memory Il memory è quello Con le carte uguali Ah ok Creava delle carte Personalizzate Diciamo Uguali E tu Se indovinavi Vincevi qualcosa Giusto Che figo Sì Poi le faccio fare a tutti Cioè vado in giro A tutti gli altri illustratori Rompo i coglioni Dico fammi due carte uguali Facciamo il memory Quindi le facevi fare Certo Che storia Stanno noi avevamo tipo 40 carte Era impossibile da finire Impossibile Perché c'è troppi Però la gente Che era imperterrita Ci provava E anche se perdevano Gli regalavo una stampa Per l'impegno Comunque E poi c'è C'è questa cosa qua Anche dello scambio stampe Tra illustratori Ah sì Collezioni Illustrazioni Cioè dandole tue Sì E avendo in cambio altre cose C'è tutto un vostro giro Ho una galleria a casa Una galleria d'arte In una valigia grossa così Piena di stampa Ma ci saranno dentro 200 stamp Non sto scherzando Di tutti gli illustratori Tutte le persone Che hai beccato lì Originali Serigrafie Bellissimo Ma infatti me lo diceva anche Fra Che spesso fa Scambi Stampe Nei banchetti Perché Cioè Bellissimo Come cosa Sì 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 Figo Figo E l'orgia tra illustratori È primo o dopo L'orgia è durante Durante proprio Comicità ragazzi L'orgia parte quando va via Fra Ciao Fra Tra l'altro c'è appena stato il filler No ragazzi Io purtroppo ero quasi in ospedale Perché ho avuto un bellissimo virus gastrointestinale E quindi alle 8 del sabato sera Sono andato da sprint A spendere tanti soldi Allo spazio Magliocchi È stata una bella edizione E la mattina dopo Dovevo presenziare a filler Ma la mattina dopo È stata posticipata due mattine dopo Nel senso che io non avevo Cognizione di causa per due giorni Ero veramente morto Comunque sponsorizziamo un po' questi festival Assolutamente C'è il pacciugo C'è il filler Che altro c'è? Pacciugo filler Gomma Non lo fanno da buon Gomma No l'hanno fatto quest'anno Mi sembra Ah sì? Scusate ragazzi Mi sono perso il gomma Oppure non l'hanno ancora fatto Adesso sai che non mi ricordo Però vabbè Se ci ascoltano Fate il gomma Fate il gomma Promuoviamoli Sì sì assolutamente Assolutamente Ad esempio Al filler Ci dovevo andare anch'io Mi sono messo d'accordo con Dario Alessandro Però Nel momento prima di partire La macchina Non è andata Ma allora c'è la maledizione filler Io so già anche di chi può essere la colpa Ma non si fanno nomi Della maledizione del filler Perché c'è una maledizione Che aleggia sul filler? No però secondo me c'è una persona Che risponde al nome di Daniele Margara Che porta un po' di Sì Questo lo dici tu Io lo conosco neanche Adesso parte il nuovo tipo Masini Sai quelle crociate L'uomo che porta sfiga L'uomo che porta sfiga Va bene Da oggi Daniele Margara È l'illustratore Che porta sfiga Per antonomasia Non invitato Life Festival Perché se no Non ho capito Senti ma Tu hai avuto un'idea chiara Che volevi creare Una carriera Da illustratore Scusa la risposta Ma Era un no totale No no Come dicevo prima In realtà Era È nato proprio dal Fortunatamente Da quel Da quel boost Che ebbi Su Tumblr Tanti anni fa E iniziano a chiedermi Di fare copertine Locandine CD Sì E da lì il Canada E poi me la sono ritrovata In mano Nel senso che appunto Mi sono ritrovato a lavorare Come illustratore Ho detto Cazzo bello Sì 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 Da quanto tempo lo fai Cioè L'illustratore Hai detto 2012 Più o meno 2012 sì È stato Cioè quando mi sono fatto proprio Mi hanno assunto in un'agenzia Come illustratore in Canada Ma già lavoravo Da un po' di anni Facevo appunto Le varie copertine Di qualche disco Ho fatto Tantissimi flyer Tantissima poster art Avevo già fatto qualche festival Avevo fatto L'Italian Poster rock art A Pisa Era un bel po' di illustratori È stato il mio primo festival Quello Si chiamava Italian Poster rock art Italian rock poster art Vabbè insomma Troppe parole nel nome Però era Sì In Toscana Ero andato là con un mio amico Vicino a Pisa Sì 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 Mi ricordo Il primo banchetto È stato quello Ed erano tutte Locandine ovviamente Di concerti rock Che avevo fatto io Sì scusate Sì lo devo precisare Esatto Non c'erano i miei lavori Erano tutti i miei lavori Però Non esisteva ancora Johnny Cobalto Quindi c'era ancora Quell'estetica Un po' più Lowbrow Un po' più Jeremy Will E Un pupettoso Come dico Puppettoso Un'accademia La Crusca Non me ne voglio Cioè nel senso Siccome lo fai Beh ormai da Parecchi anni Più di dieci anni Sì 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 Ok E se Cioè E continua a piacerti Continua A A Entusiasmarti Fare le illustrazioni Allora Sai che in realtà È un po' Mi sono un po' avvelenato Negli ultimi anni Forse A furia anche Di appunto Di fare tante Tante volte Le stesse cose Su richiesta E io ho tatuato anche Però anche quello L'ho mollato Proprio per lo stesso motivo Cioè diventava Un Mettere A servizio Di chiunque Uno stile Che a cui ero Molto affezionato E che su molte richieste Non riuscivo a fittare E siccome sono una persona Anche Estremamente Non so come dire Ma tendo Cioè mi piace Accontentare le persone Quindi Non sono uno di quelli Che no Non te lo faccio Non sono capace Vaffanculo Piuttosto che Poi mi ammalavo io Dici spesso di sì Capisci Più Pur di arrivare Eh Facciamo una roba Che poi non mi piaceva Che non pubblicavo E quindi E mi frustrava tantissimo Sta cosa Anche perché poi Soddisfazioni Me le porto a casa Con queste cose qua E poi per carità L'amicizia L'amore Cioè tutto quel cazzo che vuoi Però È il discorso Sempre del bambino Che fa la cacca Quando fai una bella cacca Sei molto contento E quando iniziano a dirti Fammi un'altra roba Fammela così Fammela cosa Mi Cioè se dice al bambino Fammela marrone Adesso fammela un po' più scura Eh dice Dopo un po' dice No io la faccio Quindi comunque Che metafora Diciamo che L'illustrazione Rimane La tua Passione Cioè Il tuo sfogo Se vuoi Creativo Sempre no Cioè non Non è una cosa Che ti ha Stufato Annoiato E magari vuoi fare altro Che ne so Totalmente No quello già lo faccio In realtà perché mi Poi ripeto Io a me piace proprio Tuffarmi in robe Robi nuove Sto parlando avanti adesso Due progetti Che sono Relativamente nuovi Per quel che riguarda La mia sfera professionale Sono tutti due progetti editoriali E non dico di più Perché siccome porta sfiga No 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 Certo Ah esatto Assolutamente Però sì nel senso Non È sempre una valvola di sfogo È sempre Il tuo momento Per Lasciarti andare Detto questo Al tempo stesso Non Gli ultimi lavori A molti degli ultimi lavori Che mi ero entrati Non mi ero reso disponibile Perché non Non mi sentivo a mio agio A farli Piuttosto che veramente Non Avendo da un lato La fortuna Di non doverlo fare Per vivere Ok Posso permettermi Di salvaguardare Insomma Quello che è L'aspetto Persona Cioè nel senso Mi piace il lavoro Mi piace la richiesta Mi piace Il cliente Mi piace il brief Va benissimo Sono contento Ok Però Siccome posso evitare Di scendere a compromessi Adesso evito di farlo Capito Ok Ci sta Ci sta Ah te lo dico perché Comunque Cioè Dopo Più di dieci anni No Che comunque fai Questa cosa qua Magari all'inizio Magari È una figata No Però poi diventa Fa quasi un Un obbligo Cioè nel senso Che è un circolo Tu fai quella cosa lì Perché è figa Poi ti Continuano a richiedere Quella cosa lì E a volte rimani Incastrato In quella cosa lì Perché continuano A chiederti sempre La stessa Dimentica cosa Quindi Dico Ma dopo dieci anni Dopo E quindi Spesso comunque Ci sono anche Dei punti di rottura No Sì Sì Dei punti in cui Cerchi totalmente Di andare in un'altra direzione O Però vedo che tu Hai trovato Un equilibrio Anche perché hai Un altro lavoro Esatto E quindi Compensi No Le due cose Sì Ma sono arrivato Proprio anche Cioè Ormai sono da tanti anni Che sono in agenzia Ma già Adesso sono passati Saranno 15 anni Che illustri tutto Ma 15 anni Intanto Sì Col mio stile Forse meno Però La valvola di sfogo Come dicevi tu adesso Cioè La distrazione È vitale Perché se Non avrei mai potuto Continuare a fare Solo illustrazioni Nel mio stile Perché veramente Poi arrivi a odiarlo E se arrivi a odiare Una roba Che è il tuo marchio Di fabbrica Che è quella cosa Con cui mangi E non Banalmente Non sai fare Magari altro Infatti quello volevo Volevo capire Tu non sei ancora Diciamo A quel limite lì Perché ti sei preservato Perché ho distrazione E hai distrazione Perfetto Mi sono dovuto trovare Delle distrazioni Perché ero arrivato A Quasi Ma sì Quando inizi a rimandare Tutti i lavori Perché non ne vuoi di farli Dici ok Fermati un attimo Johnny Capisci cosa sta succedendo È una cosa interessante Perché è un aspetto Diciamo anche Dell'illustratore Che ha tantissima personalità Come la tua Perché tu hai uno stile Sei molto forte Però è Diciamo Una delle problematiche Quando però hai Quella cosa lì E tutti ti richiedono Quella cosa lì E poi ti frega E quello che ti frega È anche la tua personalità Che poi dici Sì sì Va bene Esatto Cioè all'inizio È sicuramente Il tuo punto di forza Ma poi Ti logora Piano piano Però la goccia cinese Quella che cade Continua a cadere Piano piano Ti logora Però mi sembra Che hai preso le redini Della cosa Sì sì E poi vabbè Alla fine non sto Asfaltando strade Quindi è comunque Un bel lavoro E riesci a Sì l'unica Veramente Non bisogna mai Veramente Secondo me Farsi andare Di traverso La propria Professione Quella soprattutto Che nasce come passione Cioè quella che una volta Facevi a gratis Se diventa Una roba Spiacevole da fare Fermati Vai a lavorare In un bar Per un anno Ah sì Cioè fai qualcosa Però davvero Per capire quanto era bello Sì perché perderla È da stronzi Capito È veramente da stronzi Sì 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 O evolversi Insomma Ecco Beh io non pubblico Tutte le ultime cose Che sto facendo Io sto ancora studiando Tantissimo Sto disegnando robe Che non Non c'entrano Veramente nulla Non diresti mai Che ho fatto io Che infatti non pubblico Perché sono ancora Li ritengo un po' Dei È classico Quando sei il telefono Scarabocchi Sì 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 Mi metto lì A volte Quando sono veramente Magari c'ho quella Mezz'oretta Che sto aspettando Qualcosa Sono al parco Col cane C'ho dietro l'iPad Mi metto lì E faccio un po' Sì sì Scoregge con la mano Scoregge con la mano Sì con la penna Bello poetico Sì sì Dopo il bambino Che Sempre Ma senti Tu hai Illustrazioni esposte O in questo esatto momento Le persone possono comprare O delle stampe Qualcosa del genere Sono anni che devo fare l'e-commerce Non l'ho mai fatto Perché tornando al discorso Di prima c'ho quella pigrizia E poi ti hanno rubato il sito Quindi Potete comprare Delle buonissime radici O quel cazzo No fantastico Questa cosa qua Ma scusa Parlare con il tuo agente Io vorrei parlare con il mio agente Dico Comprati una mazza Che ho dato È stato bellissimo Aprire quel sito Vabbè comunque sì Io lo voglio vedere adesso Il suo sito Non saprei come vende Cioè scrivetemi su Instagram Ok Così vi scrivo che non ho unicone Sì sì Così no Purtroppo No Ho spedito le cose Ah sì 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 Mi è capito Oppure mi aveva scritto una volta Un ragazzo che stava in Sarpi Lavorava in una vineria Io abitavo là dietro in piazza Firenze Gli ho portato a mano Gli ho portato alla maglia Ah figo Faccio pure il globo Il contatto di Johnny lo trovate sotto Nelle informazioni qui sotto Nei link Senti Una cosa interessante Che ti volevo chiedere Che ti avevo già anticipata Quindi non è una Una novità Cos'è la cosa che ti fa imbestialire nel tuo lavoro? Adesso parto in bip Esatto Ti ho un bel bip lungo adesso Una cosa che mi fa imbestialire in assoluto di più Che può sembrare anche Posso sembrare arrogante E snob Forse a dirlo Ma è quando qualcuno Ti contatta per fare un lavoro Senza sapere Cosa ti sta chiedendo Questa cosa succede molto spesso Con delle agenzie grandi In cui magari c'hai Sai un Direttore artistico Chi per il designer Che sta seguendo un progetto E c'ha un cliente Che vuole un illustratore Questo magari ne seleziona qualcuno Per fare una roba Che non è per niente Nelle tue corde Che non capita solo a me Quindi ti senti magari Una richiesta Quindi una richiesta Che non Di una persona Che non ha idea Di una persona Che non ha mai avversato Il mio Instagram E per quello che dicevo Posso sembrare arrogante Perché io non è che pretendo Che tu mi conosca Ci mancherebbe Ma se mi chiedi un lavoro Cazzo sì Perché non mi puoi chiedere A me è stato chiesto Un lavoro Crossline Diceva la mail Fondamentalmente Quel puntinato Un po' realista Un po' tipo stampa Vecchia Vinta Tutto l'inette Così che Non c'entra niente E anche realista Ma ho dato delle reference Di Di Crescenzi Marcello Ciao Marcello Cioè Roba che non c'entrava Bellissime Ci mancherebbe Ma perché non le chiedi a loro E lì ovviamente Cioè Nel senso E infatti In un paio di casi Che erano arrivate Queste richieste La mia gente stessa Mi ha scritto ridendo Tipo tranquillo Non dirmi niente Io ho già risposto Quindi in quel caso Tu rifiuti Direttamente Ah ok Ma perché mi sembra anche Scortese Dirgli Chiedi a loro Mi stai chiedendo O se no te lo faccio Ma Non ha senso Ma poi non ha senso Non ha senso Anche perché Dire poi Fatto da Da me Una roba che non c'entra niente Con me Chi lo sa Nessuno Però al tempo stesso Se magari Anche no Eh Ce l'hai capito Io non Non è da fare Vabbè ci sta Quindi quella roba lì Mi imbestialisce Ma perché mi imbestialisce La stupidità Non la stupidità Qua è pigrizia Qua è veramente Non aver voglia Di fare il tuo lavoro Allora Ma si sentiamo Trovi quattro illustratori Mi fai questo Ma Cazzo No no Esatto Esatto È un nervoso Con sorriso Sì anche quando Vengono da noi A chiederci Di fare un powerpoint Ti giuro Però è successo Eh no E noi Noi così Ma noi Noi non facciamo Le presentazioni Non le facciamo Ah non fate presentazioni No Ma tipo dei video presentazioni No Pensa a te Se avete visto La nostra reel No Almeno quello Che lì veramente Dovresti prenderti Cosa Mettere lavoro su Fiverr Fartelo fare Con 40 euro Spedito Sì sì Anche Fiverr Un altro argomento Ma non ne voglio No Ok lasciamo perdere Fiverr No 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 ma È il fatto di Questo discorso Era uscito anche In un'altra puntata Che si diceva Ma se Io ho uno stile Quell'altro C'ha uno stile E tu contatti me Per fare lo stile Perché non hai chiamato lui Perché costa di più Perché Perché mi hai chiamato Chiama lui No perché sei ignorante Ignorante nel senso che Ignori Cosa sto facendo io Cosa sta facendo lui Evidentemente Perché non è preparata La persona Comunque Sì 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 Ma perché ci sono persone Che effettivamente Io vedo in un'agenzia Lavorano come se Lavorassero alle poste Ci sono lì a prendere Lo stipendio Quindi È vero Non gli interessa Non gli interessa niente Se lui il cliente E il cliente in linea di massima Non sa cosa vuole Cioè ti dà un'idea Di quello che vuole Ma se ti chiede Vuoi una roba illustrata È rarissimo che il cliente Ti dica Chiamami Quasco Chiamami E per farmi Anche perché l'agenzia Il lavoro è quello Che deve fare Certo Quindi quando il compitino È quello di mettere Quattro illustratori Davanti al cliente E dire Guarda questi qua Ti possono fare Ma non sai neanche Cosa stai facendo Perché probabilmente Hai scritto Illustration Su Pinterest Hai scelto I primi cinque Allora Sai Dico nervoso Ma al tempo stesso No Perché so che sto parlando Con una persona Che non Sto facendo veramente Il compitino E quindi Davvero non gli rispondo Neanche Dice va bene No Però Non capisco E può sembrare arrogante Per quel motivo Perché allora uno dice Ma che ragazzo ti conosce Che cazzo vuoi Che mi dici no Però al tempo stesso Nani Lo so Nel mio piccolo Però so questo So fare Non mi chiedere un craffen Se faccio le illustrazioni Sì sì Ma cambiamo Completamente Diciamo Argomento No argomento Ma rotta Di linea Di ambiente No Cioè Le tre cose Tue Che Dici Mi rendono Completamente soddisfatto Tre cose Che ti rendono soddisfatto Nella sfera professionale Sì Allora Una era Con gli illustratori Il post Evento illustratori L'orgia Bello La villeggiatura Esatto Da evento D'illustrazione Quella la adoro Legata al mondo D'illustrazione Perché poi tutti Illustratori alla fine Ma tu conosci Un illustratore stronzo Non c'è Ma sono tutti Lei cuore Sì sì È vero È vero C'è tutta gente Veramente molto sensibile Gente che ama raccontare Gente che Gente adorabile Sì 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 Un altro degli aspetti Che amo Del mio lavoro Beh sicuramente Quando Ti contattano Dandoti carta bianca È soddisfacente È soddisfacente Che ci possa capitare Sì Quando mi chiamano Mi dicono Ho bisogno C'è una parete bianca Vai Wow Ah quindi Cioè il bianco Non spaventa C'è il carta bianca Dico No Anzi Penso a te Ok Perché poi salta fuori Il discorso del profiler Che mi diverto Indovinare cosa può piacere Certi L'ultima volta Che mi è capitato Ok Eh guarda M'hanno M'hanno chiamato I ragazzi Di Di Foot Locker Europa Per fare Insieme ad altri illustratori Che ha fatto altre parti Dello store Lo store Il L'House of Hope In San Babila Che è un negozio di basket Io non ho mai visto Una partita di basket In vita mia Sì sì Perciò già lì parte Se vuoi un po' la cosa No? Sì sì Per carità Non è che devo Cioè Non ho messo una partita di basket Ma la palla quella Le regole sono quelle Quindi va bene Però al tempo stesso L'idea che mi avessero lasciato Carta bianca Cioè non è che per forza Ci deve essere Un collegamento al basket Vai Poi ce l'ho messo io Per carità Però Cazzo Mi ricordo proprio Di essermi divertito Come un bambino Anche a farlo Poi sai Dipingere È sempre bello Perché Il 90% dei lavori Sono vettori Sono fatti al computer Ma anche Per questioni pratiche Di tempistiche Sai farla bozza Farlo bene Se poi alla fine Il cliente dice Fammelo verde Io non invidio Quelli che facendo Il mio lavoro Negli anni 80 Negli anni 70 Negli anni 60 Soprattutto Cioè paura Quindi è tutto Digitale No? Eh sì Più facile In modo che Sì con lo schiocco Ti cambio Quindi farli invece Dipingere Tornare a disegnare E farle robe Cioè sentire Quella materia La carta Il pennello È un'altra cosa Ma sai come dormi Paciarotto Bello Quella è una soddisfazione Gigante Bravo Ti è L'altra soddisfazione È proprio lavorare Con gli strumenti Non davanti a uno schermo Poi adoro Il computer Perché banalmente Io sono quello Che quando magari C'è un cazzo da fare Metto lì su After A studiarmi robe Che non so fare O su Blender Sai perché Mi piace parlare Però sì Quando Ti danno La possibilità Di lavorare Con le mani Cioè nel senso Che non stai Per i cazzi Tuoi Stai perdendo tempo Stai sperimentando Ma Sei pagato Per farlo Mi sento in un mondo Migliore Mi sento in un bel mondo Sì Poi il mondo è bello Però è più bello Certo Il vantaggio Cioè Il digitale Ha i suoi vantaggi Perché come dicevi tu Cambi colore Fatto Però La soddisfazione Di aver creato Un pezzo unico No Che è quello Rimarrà Sì È banale Ma è veramente Cazzo Poi rimani a guardarlo Sì È bello È vero La differenza tra Il mondo fisico E quello digitale La vedi Soprattutto con l'illustrazione Quando poi Stai tante ore A fare quello E dopo La vedi La vedi lì Fisicamente Infatti io Personalmente Avendo sempre studiato Il digitale Io sono un cane Con i pennelli Io non ti so Stendere l'olio Non ti so sfumare L'acquerello L'acquerello Non è una roba Che faccio Ovviamente Quindi non me ne ciava Io ho sempre usato Matite e chine E poi vabbè Acrilici E nastro Ovviamente Ma Più delle volte Capita anche Che magari Invece ti dicono C'è da fare un lavoro Così E tu ti mangi le mani Perché vorrei solamente Startene con l'iPad Sul divano Perché Di cosa stiamo parlando Poi anche quello Dipende Dalle giornate Non ci mancherebbe Però sì Quella è una grande soddisfazione Quindi sì Sicuramente Le persone Che sono dei Dei cuoricini Sì Dei arancini Pieni d'amore Disegnare con le mani E l'altra Cos'è che ti avevo detto La C'era già la terza No Io ho due nonne Con l'Alzheimer Sono giustificato Te non lo so Sei più giovane Tu me Sei più giovane Tre ne abbiamo sparate Tre ne abbiamo sparate Tre ne abbiamo sparate Le persone E poi guardiamo anche La registrazione Per sapere bene E quindi sono tre Secondo me mi sto chiamando fuori Perché in realtà La prima era sempre I mercatini Villeggiatura No No Abbiamo parlato di No Allora Scherzi a parte È fatto sì I lati positivi Sono vedere le persone Che non vedi mai Sì Che è una cosa Anche quella stupida Però 35 anni Uno lavora Quindi non è che dici Certo Quindi è bello Vedere le persone Poi tutte insieme Stare lì col banchetto Vedere le proprie cose Avere la consapevolezza Di starci due giorni La sera esce a cena È proprio una mini vacanza Te lo giuro Sì Anche se di fianco a casa La sensazione poi È sempre di disegnare a mano E quando ti propongono Un lavoro Senza brief Quindi carta bianca Ah carta bianca Era molto bello Carta bianca E poi a prescindere È terapeutico Come parlavamo prima Della cucina E della musica No Cioè disegnare È sempre comunque Una soddisfazione Vedere Fare un bel lavoro Che ti piace Che poi non fai vedere A nessuno Perché io Tanti me li tengo per me Però mi è capitato Di fare un disegno Che mi piacesse Di dire Cazzo bello Poi non me li appendo In caso ci mancherebbe Perché non È non meritato addosso Ovvio Però Però è bellissimo Sì 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 Infatti il punto Che mancava Era carta bianca Esatto Dai se l'hai ricordato È il più giovane Tra noi Non proprio Ma va bene Se volete considerarmi giovane Va bene Che palle Senti Ma Cosa consigli Giusto per Chiudere in bellezza Tu hai tirato fuori Delle belle Dei belli argomenti Ma cosa consigli Ai giovani Che vogliono Diciamo Intraprendere Tuo mestiere O diciamo Essere un po' Somigliare un pochino Di più a te A me Cosa consigli ai giovani Un buon terapista No Cioè Il discorso Che ho già fatto È quello Sempre secondo me Di non Incaponirsi Sulle cose Ok Cioè di seguire sempre Quello che facevi Già Quando da piccolo Magari pioveva E non potevi uscire Con gli amichetti Tuoi a dieci anni Cosa facevi in casa Magari dieci anni Sono troppo pochi Però Quattordici anni Cosa fai Chiuso in casa da solo Se piove Cioè non sbatter la testa Su altre cose Siccome adesso Purtroppo ripeto Con Siamo veramente bombardati Tra miliardi di stimoli Perché io mi metto Anche nell'ottica Sai Di un ragazzo Di una persona giovane Che vorrebbe diventare Che vorrebbe Diventare qualcuno Negli ultimi due anni Sono spuntate Quante cazzo Di professioni Iper remunerative Quindi Cioè io Io sono giovane Ok Però già quando ero giovane Io Era un cazzo Di altro mondo Cioè non potevi neanche Prevederlo Non esisteva neanche Il tipo che si faceva Lo stesso balletto Su 500 video Anche lì In capponese Fai sempre lo stesso balletto E arrivi capito A diventare una star Di tiktok E a portarti a casa Magari 200k all'anno Cazzo Chi è che ne fa? Corri a ballare Quindi Il discorso Secondo me È proprio È difficile oggi Secondo me Per una persona giovane Mettere lo spot Sulla propria Passione E Identità Talento Bravissimo Inteso come identità Sì Perché talento Non vuol dire Fare le cose bene Vuol dire Fare le cose Senza che te le chiedano Cioè farle Quando veramente Non Aver la cazzimma Di fare una cosa Poi il talento Se veramente ci tiene una cosa E continua a farla Ti assicuro che esce Perché non Cioè Non ci piove Semplicemente devi farla Perché vuoi farla tu E vuoi arrivare da qualche parte Ma non Arrivare da qualche parte Non vuol dire Arrivare ad avere uno stipendio Sì Ah beh sì Secondo me La problematica Forse dei giovani Adesso È che lo fanno Con lo scopo Magari di appunto Arrivare a uno stipendio Di guadagnare Cioè 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 Questa è passione No Questa è passione E la cosa bella È che la passione Non ti porterà mai A fare una paraculata Per guadagnare O per metterti in mostra Un'illustrazione Clickbait Sì Nel momento in cui C'è un argomento Hype Io cazzo Adesso davvero Qualche mese fa Ogni volta che aprivo Instagram Mi beccavo una versione Di Topolino Stuprata e ristuprata In mille salse Ora Io con tutto il bene Che voglio Attorno lì Non mi chiamo Latero Cioè Giuro Basta Ma quanti ne hai visti E poi di tutti questi Pseudo artisti Capito Queste pseudo gallerie D'arte Che vendono robe Che dici ma Cioè Mr Brainwash Fece un film bellissimo Anni fa Che si chiamava Exit through the gift shop Te lo ricordi Quello su Banksy Questo Mr Brainwash Era un ragazzo Che seguiva Tra i vari graffitari Banksy Ha seguito per anni Banksy in giro E E quindi fondamentalmente Ha capito un po' Cosa tirava Non tirava E questo ha fatto Un documentario Su una mostra Che ha realizzato Pagando dei ragazzini Per fare delle mostre Di finta pop art C'era anche La classica Marilyn Il paperino Ha aperto A Los Angeles Si chiamava Exit through the gift shop Sta cazzo di mostra E ha fatto Sold out Di tutte le opere Vendute A l'ira di Dio A milioni Ha guardato milioni Un giorno La fila fuori Di persone per entrare Questo non ha fatto niente Questo non è un artista Questo è uno Che seguiva gli artisti Ha messo insieme La sua idea d'arte Facendola realizzare A dei ragazzini Che uscivano dalle scuole d'arte Sei un genio Si E poi la cosa bella È che poi Banksy dice anche A un certo punto Tipo E si che io l'ho Detta io Questa idea Certo Del tipo So stronzo So stronzo No ma infatti Molti artisti Tra virgolette Seguono una scaletta Quasi E per quello Lo vedo Sì perché per molti C'è la ricetta Del successo Ma non c'è Una cazzo di ricetta Vecchio Dei continuare a sbatterla Poi io non è che dico La verità assoluta Parlo per quello Che è la mia esperienza E per quello che vedo Perché vedo tante paraculate Che finiscono in un nulla di fatto Anche la roba degli NFT Per quanto io possa Io credo nell'NFT Perché effettivamente È molto interessante Anch'io credo È veramente figo Il nostro Signore tesù Ho fatto il segno della croce Sia lodato Però Cazzo Se vedi la maggior parte Degli NFT in giro È gente che non ha capito Qual è il valore Di un NFT Perché Sì C'è stato Quell'area Quella rincorsa Tutti a buttarsi Sì Vedendo qual era Il trend del momento E buttandosi Questa è esattamente La roba che io Sconsiglio Di fare a chiunque Io ovviamente Non ho mai fatto NFT Ne abbiamo parlato Con un mio amico Ridendo un periodo Ma È rimasto appunto Il discorso Di mezza serata Davanti a una birra Perché Io non Fare qualcosa Di seriale Poi io sono Un collezionista Cioè nel senso Io colleziono giocattoli Colleziono libri Quindi la roba Del collezionare La roba Della serialità Mi piace Nelle mie vene Però deve avere Un senso Cazzo Adesso sta arrivando Forse avere Un senso Per qualcosa Applicato Associato A un'altra tecnologia Sì quando non è più La corsa Tutti devono fare Una roba Perché lì hai capito Cos'è l'NFT E da quel momento Tutti a fare l'NFT Sì È hype Cazzo Io quando Avevo sentito Per la prima volta Parlare degli NFT Da Busta In un'intervista In radio Busta Sarsiccia Dei Sonsonica Lui fece Sto progetto Tipo di un paio D'anni fa Aveva fatto Dei brani NFT Quindi tu Solo chi comprava Quel brano Poteva sentirlo Poi ovviamente Lo faceva sentire Ad altri Però non era Riproducibile Aveva la sua firma Digitale Come cazzo Sì Ed era bellissimo Se ci pensi Perché dico Cazzo È anche coraggioso Cioè non ci vedeva Ancora quella patina Di Veramente Di ipocrisia No Perché dico Alla fine È sicuramente un modo Per far parlare di te Però al tempo stesso Tu vivi di quella roba Che stai vendendo Unicamente a una persona E per un musicista Oggi Per una roba del genere Non è che sia proprio Cioè Non lo fanno in tanto Che sia un'arma a doppio taglio No Non lo fanno in tanto Non è che lo fai Lo applichi a tutta La tua discografia futura Però è figa Cioè Mi piaceva proprio L'idea di dire Cazzo Io posso comprare una canzone A verla solo io Prima non potevi farla Sta cosa E quella è l'idea bella Questa è Per quello che io Reputo vincente L'idea dell'NFT E lo credo vivamente Però Non reputo vincenti Tutte le 99% Della roba Che vedo in giro Perché è proprio Merda Tipo 10.000 selfie E poi Vendi 10.000 selfie Ma allora Meglio quello Vasta che non c'è Topolino in mezzo Ah giusto Dove c'è un topolino No 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 Ok Selfie di topolino Tai volevi dire qualcosa No 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 Ok ok Su topolino No su topolino Niente Lo lasciamo in pace Lasciamolo in pace Salutiamo topolino Perché è morto È morto Beh sì Topolino è morto Con Walt Disney Secondo me è morto No Un argomento inutile Non parliamo di morte Dei cartoni Johnny Tai Io vi ringrazio Davvero per Grazie a voi Per la puntata Ringrazio soprattutto Tai Che ha fatto la connection Noi non ci conoscevamo Ah sì è vero Noi non ci conoscevamo Eh sì in realtà appunto Cioè mi piace questa dimensione qui Perché spesso ho a che fare con artisti Con illustratori Con persone che collaborano con me Ma poi di fatto non c'è la possibilità di Di conoscerli Di conoscersi E di sapere per esempio Come hai iniziato a fare questo mestiere Che cosa pensi di questo mestiere No come Sti sei evoluto Perché Non c'è l'occasione No Cioè Perché quando esci Non è che parli di questa cosa qua Cioè Ti bevi qualcosa E ciao No Cioè E mi è finita Oppure comunque Le altre occasioni Sono diverse Invece questa cosa qua Questa dimensione qua Mi piace proprio perché scopri Attraverso queste domande Queste interviste La persona Ah sì è vero È molto interessante È vero è vero Sì poi c'è il mood salotto Quindi mi lascio andare Sì 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 Eh quello è il bello E non devi neanche mettere Anzi zero beep Non ho detto niente Vedi Ho tenuto a frenare la coprolalia Come si chiama Bipperò Perché mi piace Mi piace bippare Ti bippo su Mickey Ok Su Topolino Su Topolino Bippiamo sempre Grazie Johnny Che non è Johnny Ma non lo chiamate Paolo No ma Chiamate me Topolino Solo la mamma Solo mia madre Non sa rabbia Grazie davvero Eh io ringrazio voi Per essere stati con noi Per aver seguito questa puntata Scrivete nei commenti Se vi piace questo format montato Perché non siamo in live Ma è un format montato Sicuramente più corto Più breve Non abbiamo Non taglieremo niente Di importante Quindi state tranquilli Tutto quello che avete visto E tutto quello che È importante nel video Seguiteci ogni settimana Con il nostro podcast Il esce ogni giovedì Alle 19 E su tutte le piattaforme Spotify iTunes Blah 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 Anche Trovate anche video Legati alla creatività Video che abbiamo già prodotto E sono nel canale Li potete trovare qui Nel canale YouTube E Altri video che escono Ogni settimana Grazie ragazzi Ci vediamo Alla prossima puntata Grazie mille per essere stati con noi E grazie a voi Leveline Andata E fine E ciao Bravi tutti Vuoi dire qualcosa Vado a struccarmi Bella Sigla Ciao 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 ciao